Giornata mondiale della terra, siamo qui presso l'impianto di selezione Pasquinelli di Chima Ambiente AMIU, la piantumazione di 100 alberi con la presenza e la partecipazione di numerosi studenti, piccoli studenti di alcune scuole tarantine e ho al mio fianco alcuni studenti della scuola, dell'istituto comprensivo Gian Battista Vico. Ragazzi non abbiate timore, abbiamo vissuto insieme un bellissimo momento, avete capito sicuramente come va rispettata la natura, quindi nelle vostre azioni quotidiane, nelle vostre pratiche quotidiane, penserete sempre a rispettare madre natura. Come ti è apparsa questa esperienza di oggi? Per me questa esperienza di oggi è stata molto bella perché certe persone non sono come le altre persone che rispettano la natura, le altre persone fanno come vogliono loro, buttano cose per terra e poi ci sono persone che queste cose le mettono, le riciclano, le buttano. Danno proprio vita a oggetti che sembrerebbero morti, invece vivono una nuova vita all'insegna del rispetto della natura. Con gli oggetti si possono costruire molte cose. Passiamo a un maschietto che ti è parso. Avrai riflettuto molto. Sì, questi rifiuti sono stati portati dalle persone che rispettano l'ambiente, fanno la raccolta differenziata e non da quelli che buttano cose per terra e altro. Tu invece? Che ci dici? Queste cose sono molto importanti per poi in futuro avere un mondo più pulito e per vivere meglio. La più piccola? Quanti anni hai? Dieci anni. Ecco, beh, dieci anni già da oggi impari a rispettare la natura e così a casa, con i tuoi genitori, penserai sempre che ogni rifiuto non impiegato, non selezionato, beh, significa fare male alla natura, invece la natura va amata, irrispettata. Le persone secondo me dovrebbero rispettare di più la natura, però almeno ci sono persone che per esempio portano gli oggetti buttati per strada, li portano qui per riciclarli, per fare altre cose. Bene, e completiamo il giro, c'è un altro bambino, che ci dici? Che con questi rifiuti si possono riciclare tantissime cose e non dobbiamo buttare per terra come altre persone, li dobbiamo riciclare. Bene, concludiamo, professoressa Buccarello, vedo che avete degli studenti che oltre a saper parlare bene sono molto sensibili e questo penso che sia il messaggio da lanciare in questa sede, considerando le problematiche di Taranto, saranno loro la futura classe dirigente ed è giusto che certi principi di rispetto e di salvaguardia della natura già da piccoli vengano assunti. E' vero, questo è vero, perché proprio da loro, incomincia già in classe, quando vanno a buttare qualcosa e qualcuno sbaglia il cestino, e vedi maestra vedi che quello ha buttato quello qua, quindi già sono responsabili insomma, quindi un futuro migliore. Grazie a tutti.